Col diretti e zero spreco AESA Impianti siglano un nuovo protocollo di intesa che prevede la diffusione di pratiche agricole sostenibili mediante l'uso del fertilizzante Amelia consentito in agricoltura biologica prodotto da AESA Impianti. Molto semplice, attraverso la nostra raccolta differenziata, dall'umido della nostra raccolta differenziata, subisce poi umido e sfalci, quindi è importante fare bene la raccolta dell'organico cercando di metterci in meno possibile di frazioni strane di scarti, non le plastiche, non la carta, eccetera. In ogni modo, anche se vi fossero, non si sciupa il prodotto perché noi abbiamo dei macchinari nati apposta per poter separare questi tipi di scarti in modo tale che il prodotto alla fine abbia sempre la stessa qualità anche nel caso in cui l'organico in ingresso non sia perfettamente pulito. Il prodotto è un prodotto di ottima qualità, abbiamo fatto tutta una serie di analisi anche in questi anni sui terreni e abbiamo riscontrato la qualità sia sull'aspetto dell'aumento di materia organica che arriva su tutti i terreni sia per la capacità che poi abbiamo di non avere residui, metalli pesanti e altre cose di questo genere. Quindi l'utilizzo è molto ambito da parte delle nostre aziende agricole che hanno questa possibilità di avere il prodotto ad un costo insignificante, quasi zero, e per fare tutto questo però adesso abbiamo un altro problema, avevamo quello cioè della capacità di poterlo utilizzare con macchinari che potessero distribuirlo sul terreno in maniera funzionale ed importante, a questo abbiamo messo rimedio con questo accordo che prevede la possibilità da parte di Aisempianti di utilizzare dei macchinari che sono stati acquisiti dall'azienda e che verranno utilizzati poi attraverso una convenzione con i nostri associati in maniera da poterli utilizzare per ottimizzare il lavoro di distribuzione di questo prodotto. Vengono messe a disposizione degli associati col diretti due macchine Spandy Compost acquistate da Aisempianti. La macchina sarà messa a disposizione dell'azienda agricola che farà richiesta di almeno 10 tonnellate di questo ammendante. Sono macchinari che si attaccano a delle motrici, a dei trattori che hanno a disposizione gli agricoltori e questi caricando il nostro prodotto Amedia che viene portato da noi in loco presso gli utilizzatori possono caricare e distribuire nei terreni che hanno bisogno di ammendanti e quindi nutrire il loro terreno. Ricordiamo che il nostro Amedia è un prodotto a chilometro zero che proviene comunque da San Zeno quindi non ha necessità di lunghi trasporti a differenza di altri prodotti che vengono distribuiti sui terreni per incrementare la produttività di questi terreni.